Roberto Nicolai e poi Galliani Amato. Buonasera, ringrazio da Roberto e due Roberti. Mi è stato chiesto di qualcosa, io non so bene se c'entra qualcosa, quello che dirò, ma ci provo, poi ve lo state voi. L'archivio Roberto Marini, che dirigo, è stato fondato sei anni fa dallo stesso Marini, vissuto in una famiglia democristiana, si è ben presto spostato sulle idee di un giovane Marco Pannella, presto abbandonato con la Costituzione del PSIUP, nel quale divenne responsabile di stampa propaganda. Un compagno, critico verso il fascismo e lo stalinismo, disgustato all'invasione sovietica dell'Ungheria e successivamente di Praga, che legge studi e riviste tanto da conservarle fino ai giorni nostri. Prima della sua scomparsa, in un archivio in cui sono presenti materiali che vanno dall'anarchia fino alle riviste come Il Borghese o P.D. Pecorelli. Materiali che va da sinistra, tanta, a destra, un po' meno, sebbene Marini poi abbia successivamente aderito al PDUP, a DP e a Rifondazione Comunista. Con lo scopo questo di confrontare e comparare in un'ottica simile a quella espressa da Mark Bloch, che affermava come solo la comparazione rendesse la storia scientifica. E questo si può fare ad esempio in un archivio. Oggi quell'archivio appunto di cui vi parlo contiene 13.000 libri, la maggior parte ovviamente di sinistra, 1200 testate di riviste, del secondo metà del Novecento, ovviamente di molti della sinistra storica, della nuova sinistra. Ma anche riviste vanno dalla musica al cinema, alle tradizioni popolari, quotidiani di varia tendenza, manifesti, volantini. Pochi giorni fa ci hanno donato anche manifesti dell'ADC del 48. Vanno anche gli altri. 8.500 LP, 3.500 CD, 1.000 audiocassette, 5.000 videocassette di cui 4.000 registrate e molto molto altro. Fino alle bobine gelose con i giornali parlati a proposito di memoria del 68. E poi 50.000 pagine di miscellane, circa 500 contenuti che stiamo rimettendo insieme. Tutto questo per dire cosa? Gli elementi che contraddistinguono questa giornata sono la battaglia contro la guerra e la pace. Due obiettivi che tutti noi riteniamo di poter raggiungere anche attraverso la cultura, la conoscenza e il confronto, con forme pacifiche attraverso la quale inibire conflitti e le violenze. E tra le forme pacifiche e non violente non possiamo non includere la memoria, sebbene personalmente la ritenga uno strumento debole e fin troppo modificabile, se non affiancato e sostenuto dallo studio e dalla ricerca storica. Una memoria quella di avvenimenti violenti del passato che dovrebbe, attraverso lo studio e l'analisi, garantirne la divulgazione così da evitarne la riproposizione. In realtà questo auspicio non sempre si realizza perché la presa di coscienza storica o la memoria sono subordinate allo stato di cose presenti. In una società capitalistica la ricerca storica e la memoria si piegano nella direzione che impone quel potere. Come la scienza, prendendo in presto Raniero Pansieri, anche la storia non è neutrale, ma si esprime e viene divulgata sulla base di chi la controlla, dei gruppi di poteri economici e di informazione che vigono in quel particolare periodo storico. I giorni della memoria, o ancora peggio del ricordo, hanno dimostrato come la storia sia modificabile, inefficace e innocua, quando l'interesse economico e politico miri a raggiungere i propri obiettivi. Gli insegnamenti che la storia della Shoah e dei massacri perpetrati dai nazisti, ma anche dagli italiani fascisti in Jugoslavia e in altre ex colonie, si sono dimostrati inutili, quando due elementi si sono incrociati, appunto la Shoah e il genocidio dei palestinesi, quest'ultimo perpetrato dagli israeliani e i redi dei sopravvissuti alla strage di 6 milioni di ebrei massacrati dai nazisti. Ciò ha generato un cortocircuito tale che il genocidio verso gli ebrei non ha potuto fungere da deterrente del genocidio verso i palestinesi. È qui che la storia si è piegata di fronte all'interesse dell'economia e della geopolitica, rendendo impossibile pronunciare quel mai più, più volte invocato per altri massacri, nei confronti dei palestinesi. A ciò si aggiunge, da anni, il lavoro revisionistico del ruolo degli italiani fascisti, quei carnefici di Mussolini, come le definisce Erigobetti, che mai sono stati giudicati dal contribunale, nonostante ne fosse stata richiesta l'estradizione da gran parte degli stati occupati della furia fascista. Anche in questo caso la storia è stata piegata, oggi che la Jugoslavia non esiste più, per far dimenticare quel milione di morti, un milione di morti causati dagli italiani fascisti in varie zone del mondo e per riportare quel sempre eterno italiani brava gente, oggi ancora più sostenuto dalla neofascista Presidente del Consiglio. A me pare, in qualità di direttore di questo archivio, che ha la storia del movimento operaio come elemento centrale, che la storia non possa avere la libertà di corrispondere a fatti realmente accaduti quando sono scomodi, se non è libera dall'espressione imposta dai poteri economici e da quelli geopolitici, perché la storia e il capitalismo non possono che rappresentare un oggettivo simeo. Una volta si diceva la destra e la cultura sono assolutamente all'antitesi. In preparazione e in attesa di una reale società socialista, che faccia dimenticare i trascorsi di autoritarismi dei socialismi reali, e che soprattutto permetta la libertà della storia, realizzabile solo in una società libera e classista, dobbiamo organizzarci in altro modo. Una forma può essere quella che si riesca a mettere in rete, come già accade oggi con Transford, i centri di ricerca, gli archivi, i centri di cultura, che abbiano una prospettiva alternativa alla società in cui viviamo. Una rete che possa ricreare, attraverso iniziative comuni e contemporanee in varie città, iniziative comuni, che so, visto che a molti piace, un'iniziativa su Berlinguer contemporaneamente in dieci posti, in maniera che si sfondi da un punto di vista informativo questa cosa, perché è molto particolare, e che si ricrei quell'egemonia culturale che ci siamo perduti, attraverso forme appunto di collegamento contemporaneo. Questa è una cosa che più o meno penso, e anche dove all'interno di questi luoghi si crea la possibilità, come ci dicono a molti a noi quando abbiamo organizzato iniziative, abbiamo fatto oltre 65 anni, un luogo per parlare, un luogo per riflettere. Volevamo far vedere il film Berlinguer, vi voglio bene, non l'abbiamo visto, perché dopo la presentazione la gente ha cominciato a parlare di Berlinguer dagli anarchici a Graziani, senza litigare, e quindi questo potrebbe essere un'idea, non credo che abbiamo da perdere alcunché, neppure le catene, perché non le abbiamo vute fondamentalmente, non resta che provarti, per davvero. Grazie molto a Roberto, noi siamo d'accordo, siccome siamo in due e in tre è perfetto, quindi sei già, come si può dire, arruvolato, ma in termine militare. Grazie. Grazie.